Una breve premessa, dopo il buongiorno di rito, io non vi dirò niente di nuovo, temo che quello che vi dirò più o meno lo sappiate già. Non vi darò ricette o soluzioni perché è la riflessione che stiamo facendo in casa per cui ve la racconto un pochino. Quello che vi prometto è che vi accompagno al pranzo il più velocemente possibile con magari qualche stimolo e qualche idea. Allora, negozi di prossimità e multicanalità. Negozi di prossimità perché noi come catena siamo una catena che si sviluppa su più di 110 negozi di prossimità. Il vicinato per noi è importante, il calibro è circa di 2.000-2.500 metri per negozio. Io sarei venuto più volentieri ad ascoltare. Ho ascoltato chi ha parlato prima di me che non raccontare. Quindi, caro Luigi, io farò un intervento in punta di piedi molto riflessivo. Quindi vediamo un pochino cosa ci sta succedendo, che cosa ho capito. Io sono arrivato da neanche un anno in questa realtà, vengo da altri mondi. In realtà, prima delle esperienze che hai citato tu, ne ho fatte altre, ma si vede che sono un po' spelacchiato dovuto un po' agli anni e al lavoro. Allora, oggi cosa succede? Succede che ci siano delle modalità di interazione fra i clienti e le catene, in questo caso la catena che rappresento io, che sono un po' articolate, si sono un po' modificate le modalità di relazione, si sono stratificate un pochino. Quindi parlare di multicanalità è fondamentale nella misura in cui noi sappiamo che i touch point che ci dicevano prima, che abbiamo ascoltato prima, sono tutti disponibili. Ci sono almeno cinque momenti di contatto per ogni cliente, più o meno, ci dicono gli esperti. Quello più tradizionale, quello più usato, quello che riguarda ancora il 60-63% circa della clientela, io mi sono guardato un pochino di ricerche, ho visto che nel mondo della grande distribuzione siamo su numeri un pochino più grandi, siamo attorno ancora a oltre il 65%, però nel nostro settore ho visto che insomma quelli che guardano il volantino, quelli che si interessano rispetto alle offerte, le opportunità che mettiamo sui volantini sono ancora abbondantemente sopra il 60%. Quindi può succedere, succede, succedeva normalmente almeno cinque anni fa che uno guardasse il volantino e poi vedesse le cose che gli interessavano e si recasse in un negozio. Quindi la famigliola, tipo, ma è giusto per fare un'esemplificazione qualsiasi, perché la stratificazione dei clienti poi la facciamo tutti quanti, si guarda il volantino e poi può decidere di andare direttamente in negozio. Purtroppo è sempre meno così. perché succede che si vada più volentieri a confrontare, a vedere quello che abbiamo ricevuto, lo stimolo che ci è arrivato nella casera della posta, lo andiamo a confrontare con quello che ci interessa capire un po' di più, ad approfondire magari sulle fonti internet piuttosto che sul web in generale. Ma non ci basta questo, perché evidentemente noi facciamo anche un minimo di verifica sulla piazza. Ci interessa capire che cosa succede, quali sono le esperienze, quali sono le valutazioni, quali sono le opinioni che si sono intersecate via via anche su altri momenti dei social e quindi siamo ancora sul web. Cosa stiamo facendo? Cosa sta facendo il cliente in questa situazione? Il cliente in questa situazione sta facendo dello showrooming. Quindi sta confrontando quello che vede sul volantino, quello che vede sulla nostra presenza nel web, lo sta confrontando con quello che poi va fisicamente a vedere nel negozio e forse lì si realizza la scelta avendo avuto un interesse specifico stimolato dal primo touch point. Noi sappiamo che per quanto ci riguarda in Italia ci sono 20 milioni abbondanti di account delle chat, di Whatsapp in particolare. 30 milioni abbondanti di Facebook. Quindi questi dati ci dicono che questa necessità di essere presenti in modo efficace, intelligente, strutturato e multiforme è qualche cosa che non riguarda domani ma è già adesso. Certo se ci confrontiamo con la Cina che ha 900 milioni di account WeChat dove non è solo uno strumento, un media di relazione ma è anche una modalità di acquisto, uno strumento per fare scelta, selezione e acquisto con 450 milioni di account che lo utilizzano attivamente, noi siamo ancora in un'altra dimensione. vuol dire che abbiamo ancora tempo, soprattutto penso che vuol dire che noi siamo ancora diversi e questa è una riflessione che per quanto mi riguarda in particolare per la realtà che rappresento è fondamentale perché essere radicati in 120 location, in 120 città, paesi sparsi lungo tutto il territorio nazionale vuole dire credere molto nella territorialità e avere poi intenzioni di crescere su questo. però sono temi con i quali evidentemente noi dobbiamo assolutamente fare i conti. Allora c'è un pezzo di mondo, di clientela col quale noi evidentemente relazioniamo tutti i giorni che dopo dieci anni di crisi, evidentemente per scelta o per necessità si muove con una modalità molto attenta rispetto a quelli che sono i criteri di prezzo. Ci sono i comparatori che sono un filtro di entrata e necessariamente noi dobbiamo considerare che questo tipo di presenza, questo tipo di sensibilità, questo tipo di attenzione che mi è parsa meno sviluppata rispetto al mondo da dove vengo è una sensibilità, un'attenzione al guardarsi in giro, all'essere consapevoli l'uno rispetto all'altro che io penso che dobbiamo essere più consapevoli e tenere in considerazione. Questo web rooming complesso evidentemente si sovrappone a quello che è la modalità di showrooming che abbiamo visto prima e alla modalità di verifica sui social. Possiamo quindi parlare evidentemente di omnicanalità o di attività di selezione, di acquisto in ogni momento della nostra giornata. In funzione di come siamo comodi, dove siamo comodi, in funzione dello strumento che abbiamo in mano se uno smartphone, se un tablet, piuttosto che a casa con un pc, noi siamo in grado di decidere che cosa guardare, dove andare, come confrontarci con il punto vendita fisico e come far convergere lì eventualmente la nostra scelta di verifica o di acquisto vero e proprio. Evidentemente quello che interessa a una catena come la nostra è quella di mantenere mantenere centrale la relazione. Anche prima sentivo sottolineare l'importanza della relazione. Questa è sicuramente un'area nella quale noi possiamo fare tutti meglio, sicuramente. però in realtà di 2.500 metri, evidentemente con una quindicina di addetti che si alternano è più facile riuscire a stabilire una presenza e una relazione costruttiva del giorno per giorno, una consulenza più diretta e più immediata per cui abbracciare anche quella tematica di servizio e di disponibilità che sentivo prima. Questo è un terreno sul quale noi dobbiamo tutti lavorare molto in termini di formazione. Già oggi, come tutti noi, io frequento diversi punti vendita, evidentemente non solo della mia catena. Trovare delle persone che sono cortesi è già una cosa rara, quindi quando si trova una persona cortese, un addetto cortese, uno non lo molla più perché comincia a fargli domande e si scarica un pochino su tutto quello che ha bisogno su questa persona. Ecco, non basta la cortesia, evidentemente. La consulenza e il supporto nel prendere una decisione o nel perfezionarla sono fondamentali. Quando un cliente ha già fatto una serie di verifiche, ha già fatto una serie di approfondimenti, è arrivato addirittura a fare la comparazione sul prezzo, spesso arriva in negozio sapendone quasi quanto gli addetti, a volte anche di più. Evidentemente aggiungere valore a un corredo di informazioni già così strutturato non è facile, quindi la sfida che noi abbiamo, penso come operatori del settore, che mi sento per la catena che rappresento, è proprio quella di investire di più nel tema della relazione, di investire di più nel tema della formazione, della competenza. Non bastano i tutorial. I nostri figli, meno io ho figli che hanno una trentina d'anni, per qualsiasi tipo di necessità pratica, sono abituati a andare su internet e cercarci un tutorial. Però vedo che spesso, quando siamo a fare delle attività manuali a casa insieme, poi suonano alla mia porta e mi dicono, papà viene dammi una mano perché devo montare il mobiletto. Quindi io penso che il valore aggiunto che c'è nella relazione, al di là della gradevolezza che può esserci, è un valore aggiunto fondamentale, perché quando hai a che fare con una clientela non esperta, abbiamo visto la matrice nell'intervento di apertura, ecco, una clientela stratificata così e spesso per quanto ci riguarda una clientela non professionale, il contributo che puoi dare è un contributo fondamentale. Sinergia. Quindi, volendo noi assolutamente mantenere la centralità della relazione, mantenere e sviluppare la spina dorsale della nostra presenza fisica, dobbiamo essere in grado di costruire in modo veloce, efficace, imitando i più bravi o cercando di essere originali, anche quella infrastruttura di carattere tecnologico che è il corredo fondamentale che oggi, come dire, è indispensabile. Su quale stiamo investendo? Su quale stiamo investendo? Ci crediamo? Forse non è mai abbastanza, dirà, la responsabile di questo settore, però sicuramente ci crediamo ed è una cosa con la quale noi facciamo i conti consapevolmente tutti i giorni. Perché attorno al negozio vicino, prossimità era uno dei due temi, come incrociare quindi la prossimità fisica, la vicinanza fisica e la vicinanza virtuale, ecco, per noi il tema della vicinanza fisica continua a essere cruciale e tutto quello che noi mettiamo in atto, pur evidentemente sviluppando un e-commerce, sviluppando un click and collect, tutti i temi sui quali tutte le catene stanno lavorando, noi crediamo molto in questa necessità di essere sinergici, perché il linguaggio deve essere lo stesso, l'immagine deve essere la stessa, evidentemente deve rimbalzare in modo speculare quello che succede su un punto rispetto all'altro, quindi il virtuale e il fisico. E quindi sono, vabbè, non ve li leggo tutti, uno sì, uno no, la vicinanza fisica, i prodotti, il catalogo prodotti, evidentemente che deve essere lo stesso, le campagne che devono, come dire, proprio richiamarci l'una con l'altra, l'attività della loyalty, che non sono solo punti, l'attenzione al customer journey, perché come costruisci un punto vendita, che tipo di sequenze merceologiche di adiacenze, pensi siano più coerenti per facilitare il percorso della spesa, ma anche per sviluppare un po' di cross-selling. l'attenzione al cliente che sia fisica e che sia virtuale, con risposte, con una cura, che sia quella personale, ognuno di noi vuole sentirsi personalmente percepito come individuo, non come appartenente a una categoria, la famiglia, il single, il giovane, il silver, eccetera, eccetera. Sviluppare delle app intelligenti, che siano attrattive, spiritose, che parlino il linguaggio anche dei giovani. Il tema della didattica, non solo tutorial, non solo informazioni per il post vendita, ma anche all'interno dei negozi, è importante che si accompagnino le scelte e i confronti con un'informazione il più possibile efficace e magari se è in loop su un monitor è meglio ancora. Beh, è chiaro che se tu hai in mente chi è il tuo cliente, devi anche cercare di tagliare l'assortimento in un modo coerente al tuo cliente, per cui avere quello che ti serve avere, quello che pensi sia importante avere e magari invece rinunciare ad altre cose. Per noi questo è particolarmente importante, viste le dimensioni non particolarmente grandi dei nostri negozi. Ecco, io insisto sulla parola negozio, faccio un inciso molto veloce, ma ci tengo. Punti vendita mi pare molto, molto, come dire, molto freddo, molto assetico. Negozio è il contrario dell'ozio. Nel negozio ci si dà da fare, nel negozio c'è relazione, nel negozio c'è gente che si muove, nel negozio quelli che servono i clienti devono essere orgogliosi di servire, quindi NEC OZIUM, niente ozio nel negozio, per cui mi piace chiamarlo così e lo chiamo così sempre anche con i miei colleghi. I servizi logistici, che devono essere efficaci, soprattutto se fai click and collect, soprattutto se fai e-commerce, la coerenza fra l'offline e l'online, che va a chiudere un pochino il cerchio che centra tutto quanto sul negozio di vicinato. Grazie per l'attenzione.